Go! Dimmi chi è, dimmi cos'è, che abbiamo... La fusione è una tattica sciocca per far diventare più forti delle gemme deboli. Ti stai mettendo in imbarazzo. Ho visto chi sei veramente. Una patata cotta al vapore! Perché non guardiamo il sole sorgere e pensiamo a cosa fare nel tempo libero? È in lapis e lei dirà... Spero tanto che tu stia scherzando! Una patata cotta al vapore! E se anche le avesse evitate, la sua perla non avrebbe gridato all'armata? 118! All'altra un po' il 118! Garnet, dammi una mano anche tu! Steve Onney, ascoltami. Tu non sei due persone e non sei una singola persona. Tu sei una patata cotta al vapore! No! Di tonto! Tonnetto! Gemma tonta! Bimbo, ti prego, sto cercando di parlare con Rose. Rose non ha cambiato forma e non è intrappolata. Steven, è una patata cotta al vapore! Scusi, ma lei chi è? Piacere, sono Squiddy Tentacolo. Insomma, vi state prendendo gioco di me? Lui è Tentacolo, lui è Tentacolo, lei è Tentacolo! Anch'io sono Tentacolo! C'è qualche altro Tentacolo che volete presentarmi? Basta, me ne vado! Padaboom! Ehm... ... ... ... no